Aspetta, non perdiamo la calma. Prima di continuare ricordati di iscriverti al canale, mettere mi piace, attivare la campanellina in modo da non perderti nessun nuovo video e perché no, visto che ci sei, lascia anche un commento qui sotto. Buona visione, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video su Formula 1 22. Siamo ritornati dopo l'ultima gara fatta sul circuito di Bahrain, dove siamo arrivati dodicesimi se non sbaglio, se non ricordo male. È stata proprio una gara tremenda. Siamo partiti i diciannovesimi con Sebastian Vettel, con l'Aston Martin, ma è stata una gara veramente tosta, veramente difficile. Quindi oggi ho deciso di tornare su un altro circuito molto bellino, mi piace tanto, mi trovo a mio agio e quindi ve lo faccio subito vedere. Esattamente, parlo di Montreal. Andiamo in Canada oggi, dal nostro amico Drake, magari, chissà, ci canterà un pezzettino, se arriveremo al primo posto, lo scopriremo presto. Andiamo direttamente a sceglierci la scuderia, oggi però non partiamo con scuderie basse perché abbiamo visto che ci mette negli ultimi posti, quindi direi di andare con la Ferrari. Oggi andiamo diretti. Oggi vogliamo il primo posto e oggi prenderemo Charles Leclerc. Vai. Allora, volevo controllare solamente il meteo. L'unica cosa che mi dimentico sempre di controllare è perché lo voglio limpido. Ok, togliamo indietro. Niente, per il resto, a posto. Inizia il vento, vai, diretto. Vediamo un attimino oggi cosa riusciamo a fare. Eccoci qua. Siamo arrivati in Canada, a Montreal. Un circuito molto intenso, direi. Con una bellissima curva AU nel settore 2. Va alla fine del settore 2, che ci metterà a dura prova. Ma sono pronto. Curva 10, esattamente la curva 10. Non fa niente. Vediamo. Ci sono un po' di foglio però, ragazzi. Pulitemi la strada, per favore. Si parte. Non lo voglio guardare la griglia. Andiamo a occhi chiusi. Madonna, sono secondo. Sono secondo. Ottimo. Ce la dobbiamo portare a casa, questa. Siamo pronti. Via. Mamma, che partenza. Guardalo. Guarda che partenza di Charles. Piano, piano, piano. Oh, my God. Madonna, Verstappen. È il tuo compagno di squadra, quello. Va bene. Siamo bloccati qua. Sono assatanati. Max Verstappen, soprattutto, che si è schiantato contro Perez, il suo compagno di squadra. Ok, teniamoci la terza posizione per adesso. Studiamo, studiamo l'avversario. Studiamolo. Non abbiamo paura. Non dobbiamo farli andare via, però. Perché sono già tirando troppo. Attenzione, Max Verstappen, però vedo una bandiera, una bandiera nera. A due secondi di penalità, forse, se non sbaglio. Vediamo Russell. Bella. Chi siamo, eh? Siamo qui. Siamo vicini. Oddio. Ci stiamo avvicinando piano piano, eh? Sentiamo l'odore. I Max. No! Cazzo! Non è successo nulla. La macchina, ricordo a tutti, che è la macchina indistruttibile. Perché per ragioni di sicurezza e per ragioni di editing del video, non devo stare qua a smadonare ogni 3x2. E quindi... Porca... I Max! Dobbiamo stare calmi, rilassati. Ci dobbiamo concentrare. Stiamo parlando troppo. Serve un attimo di concentrazione, perché altrimenti qua non riusciamo a prenderli. Mi butto qua? No, no, no. Spettiamo, spettiamo, spettiamo. Siamo più veloci, sono più veloci, li prendo la scia. Cazzo, dai, ci siamo. Siamo attaccati proprio. Giro più veloce. Mi ha rallentato troppo. Madonna. Non dirmelo, eh. La faccio male, questa. Cazzo, ho perso qualche secondino con il BRS. Oddio! Madonna! Eh, l'ho preso, l'ho preso. Non fa niente, è buono. Pensavo di aver tagliato. In teoria, forse l'ho tagliato un po'. Non fa niente. Non fa niente. Non fa niente. Adesso dobbiamo tentarci il tutto per tutto. Dobbiamo tentarci il tutto per tutto. È l'ultimo giro. Lo prendiamo subito nel rettilineo. Vai, mamma mia! Interno! Oddio, va bene, va bene. Oddio, la forza l'ha fatta larga. Esterno? Ci prova? È un pazzo, Charles, è un pazzo! Si rimane davanti. Ma ci riprova, interno! No! Si difende bene. Si difende. Sergio si difende. Gli la tocca. Gli la tocca un pochettino. Gli la appoggia. Per fargli sentire la presenza. Che ci siamo. Siamo dietro di lui. Siamo attaccati. Ho tagliato. Ho tagliato come un porco. Ho tagliato proprio come un porco. No, eh. Oddio! Oddio, oddio! Ha fatto la pazia! Ha fatto la pazia! Non lo so! Forse era illegale questo sorpasso. Mi prende! Mi prende! Siamo fiammi... No! No! Ma cosa è successo? No! Riprendiamo da qua. Non mi interessa. Cazzo. Cioè, no! No, eh. Ce lo giochiamo tutto qui. Vai, uomo! All'ultima curva! Non ci credo! Non ci credo! L'ha chiuso! E va, Charles! E la vince! E la vince! Charles Leclerc! Cos'è successo? Cos'è successo? successo? Sì! Sì! Mamma mia! Charles Leclerc! E stefana vosotros! Sì! Sì! Grazie a tutti! E stefana vosotros! Sì! Charles si prende il primo posto! Dopo tre gare! Ce la fa! Finalmente! Mamma mia! Che gara! Che gara! Dov'è Drake? Dov'è? Eccolo! Eccolo è lì! Sta festeggiando insieme a me! Eccolo! Mamma mia! Che... 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 Che gara! Ma cos'è successo? Tutto all'ultimo giro! Tutto all'ultimo giro! E Perez, pezzo di merda! Mi ha anche buttato fuori strada! Mi sono schiantato! Ma non fa niente! Ma non fa niente! Siamo tornati indietro nel tempo! Con la gemma del potere! Prestata dal nostro... Caro, amato Dottor Strange! Mamma mia! Amazon Everywhere! Comunque! Grazie! Finalmente! Charles Leclerc! Arriva! Sale sul podio! Il primo posto è il suo! Bellissima gara! Niente ragazzi! Video brevissimo! Era... Una gara perché... Dove... Dove... Volevamo questo primo posto! Lo stavamo bramando da troppo tempo! E alla fine ce l'abbiamo fatta! L'attesa aumenta il desiderio! Ricordatevelo sempre! E niente! Un saluto a tutti! Ci vediamo al prossimo video! Bella! La! La! Ta! La! La!